Voglio parlarvi del concetto di moda che entra all'interno delle nostre aziende che producono anche fashion e voglio parlarvi di come la tendenza, di come il gusto, di come la creatività messa in equilibrio anche con la sostenibilità possano creare valore e incrementare il valore dei brand che noi serviamo. Io sono Giulio Bevilacqua, Bedin Galvanica, vi aspetto alla conferenza del JTF 2020.